Ciao a tutti amici e bentrovati tutti su un nuovo video di TCC Television da Daniel e dopo un po' di tempo torniamo sulle bustine calciatori gol in questo momento in cui il campionato di calcio vive nella totale incertezza dell'essere annullato, posticipato, cancellato, ripreso a porta chiusa ancora non si è capito cosa sa da fare noi torniamo a spacchettare calciatori panini ma non figurine classiche quindi nessun calciatore vedremo oggi bensì quello che c'è nelle bustine gol le avevamo già aperte una volta come detto prima questo era quello che abbiamo trovato la scorsa volta e purato dalle doppie speriamo di andare quantomeno a rimpinguare questa collezione per i pochissimi di voi che ancora non lo sapessero ma penso che ormai lo sapete tutti se seguite e collezionate calciatori panini cosa c'è nelle bustine gol troverete due figurine anzi una figurina e una card una figurina che ha un logo speciale a sfondo dorato diversamente da quelli a effetto 3d che sono presenti nell'album delle 20 squadre di serie A che non hanno numerazione sul retro come potete vedere quindi potete o attaccarli sull'album ma io vi consiglio di attaccarli dove vi pare magari su un diario o su qualcosa oppure tenerveli così da collezione come sto facendo io e li abbiamo trovati tutti diversi l'altra volta devo dire questo perché avevo preso bustine tutte attaccate diversamente è stato per le card degli animali o meglio dei gagliardetti rappresentati in forma guerriero bestiale chiamiamolo così sono questa sorta di personaggi che vanno a reinterpretare il logo l'emblema delle varie 20 squadre di calcio di serie A che tra l'altro mi è piaciuto molto è un'idea molto accattivante e per questo voglio continuare questa mini collezione da 20 pezzi abbiamo 9 bustine che sono quelle che abbiamo accumulato negli ultimi spacchettamenti le ho prese di nuovo tutte assieme sperando che ci vada bene per i loghi rischiamo un po' visto che l'altra volta tutti attaccati erano tutti diversi quindi rischiamo di beccare la stessa fila per questi qua che sono i personaggi magari ci va un po' meglio speriamo quantomeno di trovare qualcosa che ci manca abbiamo 9 bustine quindi l'altra volta ne abbiamo trovati la bellezza di 11 la perfezione sarebbe trovare tutti e 9 quelli che ci mancano ma credo che sia piuttosto tosta cominciamo dalla prima bustina vediamo cosa ci porta attenzione attenzione abbiamo oh è l'oro del milan tra l'altro uno di quelli che ci mancano quindi molto bene e la nostra prima card sul retro non c'era scritto Bologna e vabbè invece è proprio il Bologna che poi ne avevo già trovati due quindi questo è il terzo fatevi avanti se vi manca io questo doppio lo metto qui almeno non va in collezione andiamo avanti con la seconda bustina molto rapida come vedete d'apertura solo due prodotti due pezzi all'interno abbiamo il logo del Torino questo non mi ricordo se ce l'ho e stavolta lo giriamo di botto e ancora il Lecce anche questo doppio sempre i doppi dei doppi trovo il logo del Torino mi pare che ci manca molto bene quindi due loghi mancanti abbiamo quasi finito i loghi Inter Lecce Milan non male non male proseguiamo attenzione il logo del Cagliari questo mi pare di averlo trovato però logo del Cagliari e oh l'Udinese credo a questo punto Udinese infatti si vedevo sempre una zebra però mi era venuto il dubbio e l'Udinese meno male ci manca quindi arriviamo a 12 il Cagliari 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 è doppio vabbè pazienza questi doppi li mettiamo qui sotto restano 6 bustine una sola un solo personaggio mancante finora il logo del Lecce e di nuovo il logo diciamo il personaggio della Santo Doria il marinaio quindi altra doppia molto male il logo del Lecce dovrei averlo si l'avevo visto prima ok sta andando male sia per i loghi sia per i personaggi siamo a metà il logo della Fiorentina questo non mi pare di averlo e poi e poi oh bellissima l'aquila del Genoa mamma mia veramente figa questa bella mi piace buono 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 e il logo della Fiorentina che poi controlleremo restano solo 4 buste purtroppo e abbiamo 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 il logo dello Spalda anche questa doppia e poi troviamo di nuovo appena trovato vabbè ho capito che è figo però basta pazienza ce ne faremo una ragione devo trovare il lupo della Roma intanto troviamo il logo della Juve dorato questo non mi pare di averlo ed abbiamo il quartetto dei Cagliari molto figa anche questa mi piace mi piace carina bene almeno qualcosa che ci manca l'abbiamo trovato due bustine a occhio mi mancano un po' di squadre importanti Roma Lazio Milan voglio il diavolo del Milan e il lupo della Roma il logo del Lecce di nuovo e niente di nuovo il lupo del Lecce ma in quantità industriali il quarto quello e chiudiamo spero in bellezza perché altrimenti il logo della Lazio promette che sul retro abbiamo di nuovo la Zebra Juventina niente è difficile trovare questi loghi questi questi card animaleschi questi personaggi particolari questo ci manca e questa è un'altra doppia beh adesso ho accumulato abbastanza doppie per provare a fare scambi mi mancano 3 6 9 12 14 mi mancano solo 6 squadre Roma Lazio occhio vado Roma Lazio Milan Spal ce l'abbiamo il Torino ce l'abbiamo ci manca il Napoli senza dubbio l'Atalanta poi tanto le vediamo qua perché questi sono quasi completi Inter Juventus Lazio il logo della Fiorentina lo mettiamo qua vediamo quanti ci mancano di loghi tanto per fare una statistica 1 2 3 8 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 17 18 ci mancano solo due loghi incredibile ci manca sicuramente la garda dell'Atalanta quella del Bologna e quella qua del Brescia ce l'abbiamo il Cagliari l'abbiamo appena trovata la Fiorentina ce l'avevamo il Genoa ce l'abbiamo l'Inter pure Juventus Siedem Lazio ci manca Leccea Aiosa Milan ci manca Napoli ci manca Roma ci manca la Samp trovata ah il Sassuolo manca il Sassuolo Spallo Torino e Udinesi vabbè ragazzi se qualcuno di voi ha Roma Lazio Napoli Milan Sassuolo e Atalanta sono molto interessato se vi manca qualcosa tra Bologna Lecce Genoa Juventus Sampdoria fatemelo sapere tanto questi sono i doppi che ho sono apparente gli stessi dell'altra volta visto che ho ritrovato sia Bologna che Lecce per questo video è tutto quindi abbiamo spacchettato insieme questa collezione spero vi siate divertiti se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche inoltre potete anche seguire la pagina facebook che trovate ogni tanto in pop up durante il video e sempre in descrizione come detto per questo video è tutto io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti